Musica Buonasera e ben ritrovati con se tu appuntamento settimanale 55 a Canestro si parla del grande basket lombardo come sempre partiamo dalla serie C ma attenzione perché arriviamo fino alla serie A fino a Varese che questa settimana ha fatto una grande impresa battuta di 30 Trento, giusto per usare un gioco di parole lo faremo con uno dei grandi santoni del basket lombardo uno degli ultimi rimasti al lavoro Ezio Vaghi, presidente dell'Arbor Basket Saronno Buonasera a tutti Benvenuto anche al presidente oggi siamo di corsissima perché lo saprai, in settimana ci sono state 2000 partite perché è doppio turno, infrasettimanale e settimanale 24 partite in totale Per noi un turno solo Per l'Arbor un turno solo ma tutti gli altri hanno giocato Risultati del girone A infrasettimanale, partiamo con Lissone Manerbio 69 a 64 terza vittoria di fila per Lissone che era in striscia ma poi nel turno settimanale poi andrà a perdere ma ne parleremo a seguire Pizzighettone Sanse 76 a 66 sempre in vantaggio Pizzighettone poi riesce nel finale a mantenere il vantaggio sull'aggressività di Sanse Iseo Agrate 71 a 56 con Azzola che continua con i suoi venti di media in questo campionato strepitoso per la guardia di Iseo Palminano Gardonese 58 a 56 vince una volta la difesa di Palminano squadra che subisce tantissimi punti una volta che riesce a tenere gli avversari a solo i 56 segnati porta a casa la vittoria Juvi contro Cernusco 51 a 76 questa è la squadra della settimana Cernusco e poi dopo ci sarà nel fine settimana il riscatto ma per ora vince Cernusco 76 a 51 è la mazza grandi del girone Cernusco tu tra l'altro la conosci abbastanza bene direi così ad occhio come squadra abbiamo qualche ex giocatore Gufanti e Mercante due ex giocatori di Saronno e uno come Beretta che hai incontrato parecchie volte nei vari campionati ti stupisce un po' Cernusco questa capacità di vincere con le prime in classifica? Sì in effetti è un gruppo di giocatori che direi molto esperto quindi ci sta che possano fare queste prestazioni in occasione di partite importanti come può essere quella quando incontri la Juve sono giocatori comunque che hanno fatto categorie superiori quindi sono in grado di avere anche delle prestazioni di alto livello e attualmente sono all'interno della griglia dei playoff perché hanno cinque vittorie che tra l'altro sono le stesse della Robur Saronno quindi al momento il cammino è simile però l'anno scorso penso abbiano fatto mi ricordo un campionato direi di bassa classifica di bassa classifica anche se a differenza dell'altro girone quello dove c'era Saronno avevano fatto sette vittorie e sono arrivati ultimi nel giro di Saronno e poi si è salvata poche vittorie poi in qualche modo si è salvata invece Cernusco era retrocessa e poi è stata ripescata per chiudere i risultati dell'infrasettimanale del girone A c'è anche Lumezzane Romano 80 a 77 dopo un tempo supplementare a proposito di Lumezzane con questa vittoria la concomitante sconfitta della Juve Cremona era diventata capolista solitaria del girone fino al turno successivo fino al turno successivo perché poi sono arrivati di nuovi bufali ovvero Cernusco e che batte tutte le squadre di testa a quanto pare appena va in testa se il turno dopo trovi Cernusco sei sicuro di tornare indietro e quindi è tornata davanti la Juve introduciamo proprio il turno quello della fine settimana del girone A Cernusco Lumezzane 66 a 64 Cernusco manda un solo giocatore in doppia cifra che è Andrea Guffanti che però ne segna 20 con 4 su 9 da 3 non mi ricordo se a Saronno segnava esattamente 4 su 9 da 3 no penso proprio di no aveva dei compiti comunque diversi in una squadra anche perché lui era un super difensore strutturata in un modo diverso anzi serviva un giocatore di questo tipo perché a un certo punto Cernusco ha fatto un parziale di 23 a 9 nel terzo quarto ed era 64 a 49 a pochi minuti dalla fine però Lumezzane si è svegliato lo stesso è arrivato a 65 a 64 cioè ha concesso un solo punto e ne hanno segnati 15 con i liberi di Buona torna al meno 1 Beretta fa 1 su 2 dalla lunetta quindi 66 a 64 e Buona ha la palla per pareggiarla oppure addirittura vincere ma sbaglia il tiro quindi alla fine di Lumezzane ci è andata vicino ma Cernusco ha seccato la seconda capolista con Buona che mi sembra però abbia dei problemi fisici no Buona quello con i problemi fisici è quello di Cernusco questo è il capitano di Lumezzano un altro Buona di Fatti di Cremona non sta giocando e Cremona ha avuto un po' di difficoltà anche se poi ha vinto di Cernusco abbiamo già parlato e volevo chiederti invece delle altre Lumezzane so che naturalmente bisogna guardare con occhio interessato l'altro girone perché poi ci saranno gli incroci sono squadre che noi conosciamo poco ma che però andremo a incontrare nella seconda fase quella dove le prime otto dei playoff classificate nei gironi si incontreranno tra di loro nell'accoppiamento tipico dei playoff prima ottava seconda settima e così via quindi per capire bene quelle società che andremo a incontrare bisognerà aspettare comunque la classifica finale ma ce n'è qualcuna che ti impressiona più di altre? ma io allora a parte la Juve che mi sembra che sia la squadra favorita per l'organico che ha anche se adesso qualche partita l'ha persa qualche prestazione più che partita ha persa ha avuto qualche defiance però io punterei darei fiducia molto a Iseo che è una società che ci assomiglia un po' che ha fatto tanti anni la serie B che è strutturata solida come società come squadra quindi è sempre competitiva un po' come la nostra storia dice insomma se non arriviamo in finale arriviamo alla semifinale se non vinciamo arriviamo secondi o terzi ecco io Iseo comunque starei attento una società come diceva e poi c'è il Piadena sperando per loro che non incroci la nostra strada voce del direttore sportivo di Piadena se trovo di nuovo Saron nei playoff cancello la squadra disiscrivo la squadra perché negli ultimi anni per magari chi non avesse ancora seguito bene la serie C Gold e la stia seguendo quest'anno Piadena è sempre stata eliminata da Saron durante i playoff una volta in finale 2 a 0 l'anno scorso in semifinale 2 a 1 peraltro con Saron che ha vinto tutte e due le serie a Piadena quindi sempre sul loro campo adesso iniziano un po' a vedere festeggiando sul loro campo e nella loro pizzeria tra l'altro speriamo di non incontrarli e anche per loro credo che anche per loro perché non c'è 2 senza 3 a proposito di Iseo sempre per tornare ai risultati vince il 65-79 con Gardonese Leone aveva giocato poco nell'infrasettimonale si è ripreso con gli interessi ne ha messi 24 Gardone invece nonostante 21 di Dalovic ha dovuto cedere poi nel quarto quarto altri risultati a Gratti e Pizzighettone 63-58 e cade un'altra grande del girone perché Pizzighettone è partita fortissima solo che ad eccezione di Foti che tira 4 su 6 e da 3 gli altri hanno tirato 2 su 15 quindi percentuali un po' troppo basse per vincere le partite diciamo della difesa di Palminano che è durata una giornata perché viene presi 90 contro Romano anche qua si decide tutto nel quarto quarto però Palminano era senza Bazzoli alla fine finisce 90-81 Lissone e Juvi Lissone è una grossa perdita assolutamente anche se non sta facendo una stagione proprio eccezionale Lissone e Juvi 54-73 Lissone era assolutamente in gas tra vittorie di fila però ha trovato una Juvi che nel primo tempo doveva per forza vincere e convince esattamente nel primo tempo ha trovato difficoltà nel secondo è completamente uscita e ha ribaltato Lissone oltretutto la Juvi si riprende la vetta anche Sebona ovvero il giocatore quello fuori categoria ancora un problema muscolare sta saltando un po' di partite sta mettendo un po' in difficoltà le rotazioni di coach Brotto non è semplicissimo perché naturalmente era stato fino al momento in cui ha giocato il miglior giocatore in assoluto del campionato con 22-23 punti di media segnati e un paio di partite oltre i 30 una da 35 una da 33 una roba esagerata quindi naturalmente si sente l'assenza per la Juve noi abbiamo nel nostro girone abbiamo Passerini che si difende che stiamo andando bene non male neanche lì di fatti ne parleremo poi adesso appena finiamo qua Piadena-Manerbio 79-52 Piadena anche lì un po' in difficoltà però oggi ottivamente contro Manerbio non ci si poteva aspettare un risultato diverso per la classifica che più di ogni altra cosa forse questa settimana è importante perché ci sono stati due turni quindi ci sono stati un po' di cambiamenti anche se cambia tutto per non cambiare nulla i cambiamenti sono stati nella settimana il mercoledì e la Juve però torna in vetta 14 punti con 7 vittorie e 2 sconfitte Iseo e Lumezzane hanno 12 punti con 6 vittorie e 2 sconfitte Pizzi ha sempre 12 punti ma con 6 vittorie e 3 sconfitte questo per i riposi arriva Cernusco con 10 punti Sanse e Piadena-Romano con 8 Gardone Rissone-Agrate Palmilano con 6 e Manerbio ultima con 0 adesso è arrivato il momento di andare a parlare del girone B quello che più concerne Saronno visto che è dove la squadra della Robur è protagonista la squadra del Presidente Vaghi è protagonista ha giocato solo l'infrasettimanale Saronno un infrasettimanale particolare in cui si giocava il Palaronchi contro Opera 80-56 il risultato finale partita che dura sostanzialmente il primo quarto poi sempre in vantaggio non c'è stato modo per opera di rientrare quarta vittoria consecutiva trovata la strada giusta dopo un inizio che invece diceva una vittoria e tre sconfitte beh un po' tutto questo è successo anche per colpa del calendario purtroppo abbiamo un calendario nel nostro girone dove le prime in classifica che sono attualmente in classifica e quindi è dimostrato che non era solo sulla carta ma erano si incontravano tutte nelle prime 4-5 partite quindi era un po' anomala la classifica iniziale noi tra l'altro per scelta nostra abbiamo iniziato senza un giocatore importante come Mariani che a detta di tutti dovrà essere un giocatore che sarà un valore aggiunto nel momento in cui rientrerà però abbiamo preferito firmarlo da subito per avere la certezza che lui potesse giocare con noi e non aspettare la guarigione per cui la guarigione che si è tra l'altro protrata di un mese abbondante per cui lo avremo per dicembre però sapevamo di correre questo rischio e di partire magari un po' ad handicap ma quello che conta come sempre sono le partite dei play-off che poi possono ribaltare tutto quindi cercheremo di avere nella prima fase la miglior classifica perché è importante per le belle giocate in casa ma allo stesso tempo sappiamo di poter contare poi successivamente su un organico molto competitivo qual è l'obiettivo ora per questa parte di stagione far filotto perché adesso ci sono diciamo visto che gli scontri diretti sono stati tutti all'inizio ora ci sono le squadre magari con classifica peggiore fino alla prima giornata di ritorno quando la Robo rincontra Milano 3 quando si ricomincia bisogna andare a Basilio quindi far filotto fino a Milano 3 beh questo penso che sia il minimo che dobbiamo proporci poi dopo rinizia diciamo quella fase di campionato dove si incontrano le più titolate dobbiamo dire che però noi tranne Milano 3 le altre le abbiamo incontrate tutte in trasferta quindi sappiamo che in casa qualche valore aggiunto ce l'abbiamo quindi Vigevano Gazzada le nostre dirette concorrenti lo stesso Nerviano li avremo in casa quindi anche se non saremo al completo avremo il vantaggio del fattore campo fattore campo che è a dismisura a favore del Vigevano quando si gioca a Vigevano però a casa Robur conta quel cosino e Palaronchi sarà sempre difficile da violare come dice coach Massimo Bianchi ne abbiamo già persa una più che sufficiente anche troppo altri risultati dell'infrasettimanale Cermenate Vigevano 42-64 neanche Cermenate riesce a mettere in difficoltà Vigevano Mortara Nerviano 80-59 con Mortara che ha ancora difficoltà nelle rotazioni però 22 di Pontisse 20 di Sprude e battono Nerviano che invece proprio tutto è in difficoltà o almeno lo era fino al turno di questa settimana adesso vedremo poi nel fine settimana come è andata Cislago Arcisate 67-78 Arcisate vince 50% da 3 tutte e due le squadre deve essere stata anche una bella partita da vedere vittoria pesantissima per i lupi da Valceresio perché era uno scontro diretto altre partite del fine settimana anzi del turno infrasettimanale Milano 3-Gallarate 74-68 con Gallarate che però rimane in partita fino proprio agli ultimi minuti ci sono i 23 di Giocondo anche senza tirare da 3 Giocondo riesce a determinare le partite e come ultimo risultato Gazzada Erba 72-66 34 punti in due da Sommaschini e De Giacce che dovevano fare non far sopperire le assenze pesanti Bolzonella e Matteucci due che sono piuttosto importanti e infatti a tal proposito Damiano Verri nell'intervista del post partita dice quanto è stato importante l'apporto di giocatori che solitamente esconda la panchina e Sommaschini ha giocato titolare o De Giacce che magari gioca qualche minuto in meno noi andiamo a sentire proprio Damiano Verri con la prima intervista della nostra puntata Sì mancanze infatti due elementi del cui tetto di tanto spessore abbiamo forse usato un po' nel finale mancanze di fiato noi altri per queste mancanze qua e sono persone che hanno tante responsabilità giustamente e portano quanti punti alla causa benissimo Sommaschini direttamente in cui tetto secondo me e soprattutto da Giacce per la panchina lui queste cose ce le ha perché se lo fa sempre vedere ha avuto la possibilità di giocare tanto date le votazioni ridotte ha dimostrato che ci può stare e può spiegare anche le bombasse per i grandi continuiamo con la nostra carrellata di risultati perché ne abbiamo tantissimi turno del fine settimana non giocava Saronno quindi ci dobbiamo concentrare sulle altre e leggo come primo risultato Arcisate Mortara 74-60 un'altra zambata importante perché a questo punto Valceresio questo direi un po' sorpresa a sorpresa ma Valceresio a questo punto sembra direzionata verso i playoff ed è un cambiamento radicale rispetto all'anno scorso ancora Clerici, Bellotti e Lepri li vedi dentro i playoff? ma direi di sì vedendo la classifica insomma sono intanto con quattro punti di vantaggio sulla ottava quindi direi che è un vantaggio considerevole e poi hanno dimostrato comunque hanno battuto in casa loro Nerviano noi abbiamo vinto i supplementari con tanta fatica con la possibilità per loro di vincere con l'ultimo tiro nel tempo normale quindi direi che ha confermato queste loro possibilità di poter accedere ai playoff secondo me ci stanno ogni volta c'è delle squadre ce n'è sempre una che esce direi che loro quest'anno hanno cambiato cambiando l'allenatore forse credo che sia quello perché più o meno hanno inserito Bellotti da titolare e da effettivo dall'inizio e non durante l'anno però mi sembra che ormai sia giustificato il loro rendimento la loro classifica per il loro rendimento altri risultati del fine settimana la sorpresa di Erba che batte Milano 3 71-66 seconda vittoria per Erba e scalpo pesante quello di Milano 3 Opera Cermenate 56-61 con Cermenate che si riprende dopo la sconfitta con Vigevano Nerviano Gallarate 84-65 prima o poi Nerviano una partita doveva vincerla fosse altro anche solo per questioni statistiche con il roster che si ritrovano Cislago Gazzada anche abbastanza facile per Gazzada 48-77 e Vigevano Cerro altrettanto facile per Vigevano 85-57 classifica un po' spezzata in due la vediamo velocemente Vigevano 8 vittorie su 8 partite Gazzada 7 vittorie su 8 partite ha perso solo con Vigevano Milano 3-Saronno 5 vittorie e 3 sconfitte con loro a 10 punti ci sono la sorpresa Arcisate come dicevamo Cermenate-Mortara che però hanno tutta una partita in più e devono ancora affrontare il turno di riposo all'ottavo posto al momento Gallarate ma sono tutte lì poi alla fine vedremo chi riuscirà a prendere ed entrare nell'ottavo posto vediamo anche il prossimo turno di serie C partendo dal girone A si giocheranno Manerbio Gardone Cernusco Agrate Iseo Pizzichettone Piadena Romano Palminano Lizzone e Lumezzane Sanse nel girone B invece Gallarate Cislago Milano 3-Arcisate Gazzadopera Mortara Vigevano Cerro Saronno Erba Nerviano non ci sono grandi scontri diretti se non nel girone A Leggo un Iseo Pizzichettone Lumezzane Sanse insomma partite di alta classifica mentre nel girone B più che altro per consolidare le posizioni e magari provare un pochettino a riprendersi ecco noi per la serie C per questa sera siamo a posto ma dovete rimanere con noi perché nella seconda parte abbiamo ancora tanta serie B di cui parlare un bel po' di A2 e anche una serie A con una grandissima Varese a Trento e anche una serie A di cui parlare Qu'è sta si